Il nostro primo incarico ufficiale vi osserveremo attentamente durante l'operazione. L'obiettivo principale della missione è proteggere il complesso industriale di Anodon. Ormai dovreste vedere la raffineria sul LAD. Il cliente ha già perso due raffinerie a causa degli attacchi dello Stato Canaglia a Onest. Abbiamo informazioni attendibili circa un imminente attacco massiccio a complesso di Anodon. Ma prima devono vedersela con noi. Il cliente ha fatto evacuare il personale civile dalla zona di combattimento, quindi avete libertà di ingaggio. Siete liberi di attaccare i bersagli. Sua viglieri per cui Oracle. Sarà il nostro supporto AWACS per la missione. Roger base, siamo al punto Charlie. Tieniamo d'occhio il complesso industriale. È bello sapere che qualcuno si preoccupa per noi, Oracle. Sono Casper. Quello brutto che vola alla mia sinistra è Tano. Io su radar, impattugliamento aereo su rotta 135 a 50 miglia. Nessun nemico nell'area al momento. Restate in attesa di ulteriori ordini dal comando aereo. Assistenza off. Assistenza off. Assistenza off. Assistenza off. Assistenza off. Assistenza off.